Oggi sono ad AES per presentare i risultati di un progetto Erasmus che riguarda il BIM e che ha prodotto una nuova qualifica professionale inerente al BIM e nuovi programmi formativi sul BIM da inserire all'interno appunto dei nostri percorsi TS. A che scopo? Per fornire ai giovani neodiplomati competenze nell'utilizzo del Building Information Modeling che sta diventando sempre più importante come driver di sviluppo del settore di liste e costruzioni in termini di digitalizzazione del processo.